E' clamoroso perché ogni anno mi ritrovo qui a Santo Stefano a dover parlare di un colpo, non so perché ma a Santo Stefano c'è sempre una squadra che fa un colpo e quindi oggi ragazzi sono fuori perché ci sono le festività, vi auguro delle buone festività ma the show must go on come diceva qualcuno e quindi bisogna continuare a parlare, bisogna continuare a parlare di calcio. Perché questo? Perché oggi l'Inter non ufficializza ma prende, diciamo così, poi verrà ufficializzato nei prossimi giorni Buchanan, quindi prende l'esterno a destra, ne avevamo parlato, era diventato un pochino il giocatore più interessante in ottica Inter, tra l'altro oggi vi ho portato un video nel quale vi parlavo di un colpo per squadra che farei e avevo messo al Frosinone un difensore centrale che ha preso e all'Inter Buchanan ed eccolo qua. Arriva Buchanan all'Inter, questo è il regalo di Natale per i tifosi interisti, arriva dal Bruges, ora campionato danese, soprattutto il club Bruges con la faccenda de Gedelare a Milano non ha lasciato dei buoni spunti, però comunque diciamo che non è che tutti quelli che arrivano dal Bruges adesso devono necessariamente far bene. E anzi penso che Buchanan per il prezzo, per l'attesa e per tutto quanto sia un acquisto certamente interessante, sul quale non dover riporre troppa fiducia, anzi il giusto. E per me questo è un autentico colpaccio, tra l'altro anticipo che se arriviamo a 497.000 iscritti entro domani, domani vi porto la reaction alle migliori giocate di Buchanan. Chi è? Innanzitutto è un ala o un terzino, cioè deve avere su Transfer Mart, lui giocava in una squadra in cui non c'era il quinto di centrocampo, di base, quindi ha fatto spesso o l'ala d'attacco o il terzino. Però lui è una perfetta ala d'attacco, cioè nel senso ha sempre dato l'impressione di essere troppo difensivo per fare l'ala d'attacco o troppo offensivo per fare il terzino. È un perfetto quinto di centrocampo come l'Inter lo stava cercando e per me un profilo di questo tipo, in una situazione di questo tipo, può solo che far piacere ai tifosi dell'Inter. L'Inter aveva, a mio avviso, coperto bene le due fasce, no? Perché vabbè a sinistra che ve lo dico a fare c'è Di Marco e Carlos Augusto che sono due titolarissimi. Gioca Di Marco, è titolare Di Marco, questo è il primo panchinaro, il vice di Di Marco, però insomma sono due titolarissimi. A destra hai Dumfries, hai Quadrado e hai Darmian. Ora, va fatta un'analisi, Darmian gioca sia a destra che da braccetto, indipendentemente da quello che il calciatore vuole, perché poi rende alla perfezione in generale lì dove Inzaghi lo mette. Mentre per Dumfries lui è il titolare. Ora, l'obiettivo era quello di andare a completare la fascia destra perché Quadrado, per l'età, un po' per tutto, faceva fatica a coprire quello che di fatto poteva essere il ruolo di primo vice a destra, no? E quindi l'Inter, un esterno lì, in quel ruolo doveva andarlo a prendere. Quindi Quadrado, vi dicevo, non era sufficiente. Che poi, per caratteristiche, Bucanan è un po' Quadrado, perché Quadrado giocava alla d'attacco alla Juventus, al Chelsea per il poco che ha giocato. Giocava alla d'attacco anche alla Fiorentina, ma nasceva da terzino a Lecce. E quando, insomma, Quadrado ha esploso, non c'era la mania dei quinti di centrocampo, anzi, quasi non esistevano da nessuna parte i quinti di centrocampo. Pensate che Conte, che portava un 4-2-4, che in realtà era una sorta di 3-5-2 con il terzino ad affa il braccetto, l'altro andava su sparato e diventava appunto un 3 con l'attaccante che si abbassava, diventava un 3-5 da tutti gli effetti. Veniva visto un po' come un visionario. L'altro che faceva il 3-5-2 era Giampiero Ventura, vi ricorderete. E in quel periodo non c'era chi faceva il 3-5-2, o comunque ce n'erano pochi. Per questo Quadrado, quando poi ci si è resi conto che era troppo offensivo per fare il terzino, l'ho spostato ad Ala. Però era un perfetto quinto di centrocampo e per me Bucanen ha tutte le caratteristiche per ripercorrere le gesta, le orme di Quadrado, essendo però molto più giovane. È un giocatore che non avrebbe rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025, quindi anche se la società voleva monetizzare 25 milioni di euro da quanto ho capito, o comunque almeno una ventina ha dovuto rivedere le pretese perché si è reso conto, chi di dovere, che quelle cifre non saresti mai arrivati a prenderle. Ma per il semplice fatto che se è un giocatore, direttamente lui, a dirti guarda che io me ne vado, non voglio rinnovare, vado via a parametro zero, tu sei obbligato a dover abbassare le pretese. E l'Inter, per evitare che poi effettivamente a giugno si scatenasse un'asta per arrivare a prenderlo a cifre più basse, ha detto ok, faccio quell'investimento un po' di più di quanto spendere a giugno, però me lo prendo subito e soprattutto mi allungo la rosa anche per quanto concerne questa stagione qua. Per questo l'hanno preso prima, giusto perché appunto per anticipare quella che poi effettivamente a tutti gli effetti sarebbe stata la concorrenza. E vi ho posto di una cosa, per me, conoscendo un minimo il profilo, ora non voglio dire che io Bucanana lo vedo giocare giorno e notte, perché vi direi un'inesattezza e una fandonia, però io lo conosco, l'ho visto giocare, e poi quando vado a fare questi video io mi studio per bene di che calciatore parliamo, no? Quindi Bucanana so chi è, so di quale calciatore stiamo parlando, so il tipo di calciatore di cui stiamo andando a valutare il profilo. E vi dico che io non so così sicuro, allora lui viene per fare il vice, sì, cioè oggi che arriva, cioè domani, dopo domani, quando arriverà a Milano arriverà come vice di Dumfries, l'idea sarà quella lì. Però Dumfries, che comunque io reputo un ottimo giocatore, almeno dal mio punto di vista, non ha mai convinto a tal punto da dire questo calciatore deve rimanere all'Inter perché è fortissimo. Cioè Dumfries è un bel giocatore, no? Però è sempre finito sulla lista dei possibili partenti, dei sacrificabili. Certo è arrivata un'offerta enorme per Onana, ma se non fosse andato via Onana sarebbe stato tranquillamente sacrificabile Dumfries. Ed è stato detto a più riprese, cioè Inzaghi non lo vede come un calciatore di quelli sui quali non si può fare a meno. Per questo vi dico, certamente Buchanan arriva come vice di Dumfries, però io non mi stupirei se durante la stagione per delle partite azzeccate, per una forma fisica migliore, per una grinta, per una voglia, per una garra, per una cazzimma che dimostra di avere di partita in partita, Inzaghi inizi a preferirlo a Dumfries. E per me questa cosa è molto scritta. Cioè è scritto il fatto che se Buchanan dovesse riuscire a prendere a pieno la fiducia di Inzaghi, a giugno Dumfries va via con 35, 40, 45 milioni di euro, insomma i soldi che vale. Poi non lo so se secondo voi vale di più, ditelo voi. E dall'altra parte però c'è subito pronto il vice che diventa il titolare che è Buchanan che è pronto a prendere la fascia destra dell'Inter. Anche perché quando Dumfries è arrivato si diceva non è Hakimi, non è Hakimi, non è Hakimi, continua a non essere Hakimi. Però era un bel giocatore, ha fatto bene sulla fascia destra dell'Inter, ma penso fortemente che non abbia mai realmente preso il cuore dei tifosi dell'Inter. Poi ovviamente mi direte anche la vostra qui sotto nei commenti. Io penso questa cosa qua e per me è abbastanza palese. L'Inter doveva allungare ancora un pizzico la rosa, anche perché a livello di caratteristiche, di organico, di roster, l'Inter c'ha la possibilità di vincere il campionato e di arrivare in fondo anche in Champions League. La Coppa Italia è già andata, è partita, perché l'Inter ha perso in casa col Bologna una a due settimana scorsa. Quindi la Coppa Italia se la so giocata. Però in Champions League andranno ad affrontare l'Atletico Madrid. Per essere passati da secondi, l'Atletico Madrid è quasi come essere passati da primi. E quindi dal mio punto di vista è probabile che l'Inter voglia far molto bene anche in Champions. E se l'obiettivo è far molto bene anche in Champions, allora è obbligatorio allungare un pizzico la rosa, prendendo l'esterno destro, perché troppe volte per le assenze di fisiche, problematiche fisiche, le assenze di quadrato, l'Inter ha fatto fatica a far rifiutare Dunfris o a trovare un esterno destro. Delle volte è stato assente Dunfris per squalifiche, problemi fisici, infortuni, acciacchi, turnover, eccetera. E lì doveva giocare Darmian. Che ora Darmian ci gioca tranquillamente. Però parliamo se è chiaro. Darmian gioca sempre nei tre dietro, sempre. Quando gioca nei tre dietro è perché gioca esterno. Quando riposa Darmian, che manca di che ha 20 anni, perché non ha 20 anni Darmian, quando riposa Darmian, ecco, questa qui è la domanda che ve faccio. Darmian non riposa praticamente mai. E quindi questo adattare funzionava, perché era funzionale, però nonostante fosse funzionale sarebbe stato meglio e l'Inter lo fa allungare la rosa e lo farà, secondo me, prendendo anche un attaccante. Perché è vero che l'Inter c'ha Lautaro, è vero che l'Inter c'ha Turam, è vero che l'Inter c'ha Arnautovic, è vero che l'Inter c'ha Sanchez, ma Arnautovic e Sanchez stanno più rotti che in piedi. Quindi alla fine giocano sempre Turam e Lautaro. L'Inter per me è un attaccante che non vi parlo di dover andare a prendere, che so, Erling Braut, Holland. Vi parlo di prendere un attaccante tascabile, stile Arnautovic, ma integro, che quando lo metti, quei 5-6 gol del girone di ritorno te li fa, che ti fa comodo e che per me, insomma, permetterebbe all'Inter di essere un po' più tranquilla sotto quel punto di vista lì. Fisicamente è messo bene, ora vediamolo, nel senso che il campione italiano andrà valutato, però fisicamente mi sembra che sia messo molto molto bene. È uno che comunque la fascia te la distrugge, te la hara, fa su e giù più e più volte e soprattutto ci mette la cattiveria giusta, il giusto agonismo per poter diventare di fatto padrone della fascia. Quindi per me l'arrivo di Bukanan a Milano a disposizione di Inzaghi è un acquisto certamente intelligente, ma soprattutto non è proprio per le caratteristiche che vi dicevo, per il fatto che è abituato a giocare sia da terzino che da esterno d'attacco, non è un giocatore che si limita, c'è un giocatore che se gli dici la partita è più tosta, facciamo una cosa, sta un po' più bloccato, lui dice sta, anche e soprattutto ad esempio se metti Carlos Augusto di là lo fai bloccare lui a destra, gli fai l'esterno bloccato. Se invece al contrario dici guarda che sulla sinistra c'è Di Marco che quindi è un giocatore molto offensivo sotto il punto di vista dell'essere prolifico, del portare gollo o assist eccetera, però è un giocatore che magari sa difendere sicuramente di più rispetto a Carlos Augusto perché poi ricordiamo che Di Marco faceva il braccetto a sinistra, ecco, se metti Di Marco di là lui gli puoi dire pure vai a fondo campo, fai l'esterno che punta l'uomo e che va in fondo e lui sa fare entrambe le fasi, quindi per me è una cartuccia a disposizione di Inzaghi molto molto interessante. Tra le altre cose è anche Capace, 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 Capacissimo, molto bravo, schillato nel crossare, lui è molto bravo nel crossare, fa cross precisi, porta a casa diversi assist ed è un valore aggiunto importante perché al centro dell'area c'hai Lautari, c'hai Turam, due giocatori che segnano con una facilità disarmante, specialmente in questa stagione, quindi avere un calciatore di quel tipo è molto positivo. In ottica fantacalcio potrebbe fare bene, non so però se ve lo consiglierei nel mercato di gennaio, cioè piuttosto è un'analisi che va fatta alla prossima stagione, cioè c'è il rischio che delle volte, anzi praticamente sempre, potreste avere un 45% titolare, poi magari gioca, però ad esempio Carlos Augusto entra sempre, ma non è un titolare quadrato quando è in forma entra sempre, ma non è un titolare, frattesi entra sempre, ma non è un titolare, ecco lui farà parte di quella folta lista di quei giocatori che entrano sempre ma non sono titolari, quindi magari l'anno prossimo sarà un colpaccio per caratteristiche tecniche, è un ottimo calciatore, però titolare adesso non lo so se lo farà e per il fantacalcio potrebbe essere una perdita. l'Inter lo paga una cifra tra gli 8 e i 12 milioni da quanto ho capito, non lo paga poco, però comunque non lo paga manco tanto per le caratteristiche tecniche, non lo paga poco per un panchinaro, però vi ripeto, se questo qui a giugno diventa il titolare, il Dunfri se va via e fa guadagnare l'Inter 40-50 milioni, Marotta ha fatto l'ennesimo colpaccio clamoroso sul quale puntare già dal prossimo anno come uno di quelli top. Come voto voglio dare 8 perché l'Inter continua a lavorare in stile Bissec, cioè l'Inter continua a lavorare in silenzio, i soldi li spende ma questi giocatori qua sono giocatori sui quali poi non si punta a livello giornalistico, non stiamo lì a parlare, a parlare, a parlare, però poi eccoli lì, però poi li vedi e ti fanno la differenza. Ecco, torneremo a parlare di Buchanan, parleremo di Buchanan, una cosa per volta, oggi gli do 8, domani ragazzi se arriviamo agli iscritti che vi ho detto vi porto la reaction alle sue migliori giocate, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, vi ringrazio, buon cialalalla, ciao.